Marco Milesi, direttore sportivo della Trevigiani, oggi una bella giornata per voi, la vittoria di Novak nella cronometro, Cattaneo ha rinforzato la sua leadership nella classifica generale e per te una bella sorpresa questa maglia etica, raccontaci un po' cos'è successo durante la gara. La gara diciamo da parte nostra è stata una giornata positiva, anzi positivissima, puntevamo moltissimo su Novak oggi per la cronometro e Mattia non è stata una sorpresa perché si sa i suoi doti poi sta attraversando un momento positivo di condizione, è una giornata memorabile. Da parte mia la maglia è dovuta perché la foratura e la rottura di bici di bambini è capitata dove ero io, è stato il primo a intervenire, dargli la ruota e spingerlo e portanto penso che un compagno italiano sia stato il primo a intervenire.